Ciao a tutti, in questo video parleremo dell'iperparatiroidismo primario nel cane e nel gatto, una patologia non comune, molto rara anche nel gatto e ovviamente in questo video cercherò in primis di spiegarvi che cosa sono le paratiroidi. Le paratiroidi, lo dice il nome, paratiroidi sono due organi che si trovano a livello diciamo di zona ventrale del collo e che fondamentalmente sono gli organi deputati al controllo del calcio nel sangue ed extracellulare, ovvero questi due organi controllano fondamentalmente il metabolismo del calcio e del fosforo, producendo due ormoni, il paratormone e la calcitonina. In questo video parleremo dell'iperparatiroidismo primario ma esiste anche quello secondario che è renale, nutrizionale, surrenalico, ma ci soffermeremo sul primario. La parola iperparatiroidismo significa che c'è un'iperproduzione di un ormone, abbiamo detto che le paratiroidi producono due ormoni, il paratormone e la calcitonina. Nell'iperparatiroidismo primario avremo una sovra produzione di paratormone indipendentemente dal fatto che la calcemia non è bassa. E ora partiamo subito a spiegarvi come funzionano questi due ormoni perché chiaramente per chi ovviamente è digiuno della medicina sarà un po' complesso e cercherò di semplificare alcuni concetti. Allora come vi ho detto le paratiroidi sono due organi, producono paratormone e calcitonina. Fondamentalmente agiscono in che modo? Quando il calcio aumenta tendono a produrre calcitonina che andrà ad agire in una certa maniera, quando invece il calcio è basso producono paratormone che andrà ad agire in una certa maniera. Ora nel metabolismo del calcio intervengono tre organi principali che sono l'intestino, il rene e l'osso. Fondamentalmente che cosa succede quando noi abbiamo un'ipocalcemia? Le paratiroidi, questo è diciamo nella fisiologia, nella normalità, le paratiroidi fondamentalmente produrranno paratormone. Il paratormone va ad agire su questi tre organi, quindi a livello intestinale avremo un aumento del riassorbimento osseo nella nostra dieta, quindi se mangiamo cercherà di assorbire più calcio possibile. A livello renale verrà prodotta più vitamina D che è essenziale per far sì che c'è un assorbimento del calcio a livello intestinale e quindi inoltre diminuirà l'escrizione del calcio a livello renale aumentando l'escrizione del fosfato perché dovete sapere che calcio e fosforo vanno un po' di pari passo. Tendenzialmente nella normalità sono a dei livelli ovviamente di normalità, quando invece viene prodotto più paratormone avremo tecnicamente, quando viene diciamo prodotto più paratormone perché il calcio e basso avremo tendenzialmente il fosforo alto, quindi calcio basso, fosforo alto e poi il contrario, cioè quando abbiamo un'ipercalcemia avremo fondamentalmente un'ipofosfatemia. Quindi fondamentalmente a livello renale abbiamo questa produzione di vitamina D, un riassorbimento a livello tubulare del calcio e un aumento dell'eliminazione del fosforo. A livello osseo che cosa avremo? Avremo un riassorbimento del calcio a livello osseo, cioè l'osso fondamentalmente oltre a essere l'organo diciamo che ci permette la struttura scheletrica, la nostra struttura scheletrica, la struttura scheletrica dei cani e gatti fondamentalmente è anche chiaramente un magazzino di calcio, quindi quando serve c'è un riassorbimento. Quindi quando avremo un'ipocalcemia aumento del paratormone e anche dall'osso andiamo a prendere del calcio. Al contrario invece quando abbiamo un'ipercalcemia verrà prodotta la calcitonina che fondamentalmente funzionerà al contrario, ovvero cercherà di immagazzinare più calcio, quindi prelevare il calcio dal sangue e metterlo nell'osso, diminuire il riassorbimento a livello intestinale, aumentare l'escrizione del calcio a livello renale e diminuire chiaramente la produzione di vitamina D. Questo è nella normalità. Nell'iperparatiroidismo primario che cosa abbiamo? Abbiamo la formazione di un piccolo adenoma a livello delle paratiroidi che se ne frega fondamentalmente di com'è la calcemia e quindi continua a produrre paratormone, quindi continua a produrre paratormone anche se la calcemia è normale e quindi fondamentalmente che cosa avremo? Avremo un quadro chiaramente di ipercalcemia e di ipofosfatemia, cioè il calcio sarà notevolmente alto e il fosforo basso e una serie chiaramente di segni clinici. Tendenzialmente come ho detto non è una patologia molto comune l'iperparatiroidismo primario e raramente la neoplasia è di carattere maligno, tendenzialmente è un adenoma benigno che però chiaramente crea dei problemi perché poi l'ipercalcemia crea fondamentalmente dei grossi problemi. Quindi cerchiamo fondamentalmente di capire che cosa noi ci troviamo di fronte. Di solito sono animali che possono avere un'età tendenzialmente adulta, anziana, nel cane la media intorno ai 10 anni, nel gatto 13 anni che abbiamo la presenza di questo iperparatiroidismo primario e fondamentalmente non c'è predisposizione di sesso e anche di razza. Si pensa che ci sia una predisposizione genetica autosomica dominante nel Kishund e si sospetta che ci sia più frequenza nel siamese, però ripeto non ci sono delle razze chiaramente predisposte a questo tipo di patologia anche perché come vi diceva abbastanza rara. Un'altra cosa che fondamentalmente non c'è predisposizione di sesso, quindi maschi e femmine non c'è e fondamentalmente di solito è una patologia che generalmente entra in diagnosi differenziale quando abbiamo per esempio dei calcoli di fosfato di ossalato di calcio, cioè quando magari ci si presenta un cane che magari fa fatica magari a urinare e troviamo un calcolo, oppure troviamo dei calcoli in vescica, oppure c'è maturia, stranguria e quindi problemi diciamo alle basse vie urinarie, tendenzialmente quando poi troviamo dei calcoli, andiamo a tipizzarli e in diagnosi differenziale mettiamo l'iperparatiroidismo, oppure può essere che facciamo un'analisi del sangue perché il cane tutto sommato sembra stare bene, troviamo questa ipercalcemia e un'ipofosfatemia e quindi anche in questo caso l'iperparatiroidismo primario può essere come prima, come diagnosi differenziale. Di solito ripeto nelle fasi iniziali può essere che il cane non abbia grossi problemi, dopodiché possiamo avere un cane che chiaramente può avere poliuria, polidipsia a causa dell'ipercalcemia, quindi bere tanto, urinare tanto, problemi alle basse vie urinarie, quindi ematuria, stranguria, poliacchuria, presenza di calcoli vescicali, potremmo avere dei tremori, potremmo avere del vomito, potremmo avere una diminuzione di perdita di peso, nel gatto possiamo avere anoressia, possiamo avere vomito, costipazione, nel cane potenzialmente potremmo avere un cane astenico, quindi diciamo che non ci sono esattamente dei segni clinici patogniomonici, fondamentalmente di solito ripeto o viene diagnosticata casualmente perché magari se fa un esame del sangue in un cane anziano abbiamo questa ipercalcemia, ipofosforemia, oppure può capitare ripeto quando abbiamo per esempio la presenza di calcoli di ossalato, che quindi in diagnosi differenziale mettiamo l'iperparatiroidismo primario. Come si fa la diagnosi? Allora fondamentalmente le paratiroidi sono molto piccole, quindi molto spesso non si sente l'adenoma, si potrebbe sentire nel gatto, ma nel gatto la diagnosi differenziale è l'ipertiroidismo, quindi si sospetta più un ipertiroidismo alla palpazione, quindi di solito si possono vedere questi piccoli adenomi a livello ecografico e poi la diagnosi chiaramente quando abbiamo la presenza di ipercalcemia e poi il fosforo basso, l'ideale sarebbe andare a testare il paratormone che dovrebbe essere elevato. Ci sono delle difficoltà nell'analizzare il paratormone perché è un ormone che tendenzialmente anche se conserviamo bene il campione di solito fondamentalmente tende a diminuire, quindi ci possono essere dei falsi negativi nel senso che magari a causa del trasporto abbiamo il paratormone normale e magari invece abbiamo un iperparatiroidismo, quindi c'è questa difficoltà nel calcolare correttamente il paratormone e l'ecografia dovrebbe permetterci di vedere un piccolo adenoma. A livello di terapia che cosa fondamentalmente qual è la terapia di elezione? La terapia di elezione sarebbe la chirurgia, cioè andare ad asportare l'adenoma, la paratiroide con l'adenoma e cercare di lasciare intatta ovviamente l'altra paratiroide, altrimenti abbiamo poi dei cani e dei gatti con ipocalcemia che chiaramente dà grossi problemi. Si possono ovviamente anche iniettare delle sostanze come l'etanolo per andare a distruggere l'adenoma e l'ablazione termica con radiofrequenza. Cosa succede una volta che noi, soprattutto nelle situazioni croniche, quando noi andiamo ad asportare questo adenoma? A volte possiamo avere di riflesso un'ipocalcemia e quindi dobbiamo gestire l'ipocalcemia con la somministrazione di calcio sia per via orale che via endovenosa e possiamo chiaramente poi cercare di ristabilizzare ovviamente la calcemia perché nella prima fase abbiamo questo blocco dell'omeostasi del calcio nonostante abbiamo preservato l'altra paratiroide. Però fondamentalmente questa è la complicanza più grossa che possiamo avere quando facciamo l'asportazione della ghiandola, cioè il sistema va un po' in default e quindi dobbiamo un attimo aumentare il calcio per cercare di regolamentare di non avere un'ipocalcemia perché passiamo da un organismo che ormai è abituato a essere in ipercalcemia, gli togliamo questo adenoma. Chiaramente c'è questa prima fase post-operatoria in cui il cane e il gatto vanno in ipocalcemia. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo sempre che siete interessati agli argomenti medicina veterinaria, delle patologie come in questo caso anche abbastanza rare, vi ricordo di iscrivervi al canale qua sotto se volete sostenere il progetto un bel mi piace al video che è sempre ben accetto. Un saluto a tutti e al prossimo video.